Trieste Servizi non si farà mai. Vogliamo andare a un messaggio di totale onestà alle centinaia e centinaia di persone che vivono a Trieste, lavorano per le cooperative, che hanno degli appalti legati al comune e che sperano da mesi di essere assunti come dipendenti dall'amministrazione in questa società che si chiamerebbe Trieste Servizi, ma in realtà è esatto. Ne parleremo questa sera a Ringa, ma il problema è che è una illusione, io ve lo voglio dire, sapete perché? Per vari motivi. Uno di questi è che non c'è un piano sui costi e quindi non si sa quanto assumere persone in più, centinaia di persone al comune di Trieste, che sarebbe anche un bellissimo progetto etico, mettiamola così, per non impoverire il territorio, non sappiamo quanto costerebbe, non c'è un dato chiaro, di sicuro costerebbe una cifra spropositata, questo è evidente e immaginate oggi le amministrazioni pubbliche, soprattutto i comuni, che sono quelli più vicini al territorio, che danno i servizi ai cittadini se possono sostenere una cifra di questo tipo con continui tagli da parte di Roma, mentre ai ministeri non si taglia nulla. Stiamo parlando di Trieste Servizi, per i triestini cosa di cui parleremo ancora una volta questa sera. Poi questa fantomatica società che dovrebbe occuparsi di pulizie, tutta una serie di cose, di portierato, dovrebbe acquisire anche i materiali, la gestione, un'attività manageriale che deve essere fatta da qualcuno per coordinare queste centinaia di lavoratori. Quindi un progetto mostruoso, diciamo, nella sua vastità e che la politica non vuole fare. Io ve lo dico, non vogliono farlo a Trieste, è inutile che vi fate illudere, perché poi quello che non ci dicono è anche un altro aspetto. E queste persone oggi lavorano negli appalti, sono in forte difficoltà, perché hanno orari sballati, guadagnano molto meno, chiaramente, sono in costante precariato. Ci sono due cose che non ci dicono. La prima è che c'è paura di assumere altre persone nel pubblico, perché per colpa dei furbetti, non è colpa vostra, ma hanno paura che un domani vi possiate comportare o possa accadere quello che accade in altri ambiti. Là dove per assumere, per coprire un posto, devono assumere sei persone, perché non sanno se ci saranno. Questo è il problema. I furbetti, quindi per colpa loro, voi pagate. E la seconda, che non vi diranno mai, è che queste cooperative, illudere anche su questo progetto, è un grande serbatoio di voti. Non ve lo diranno, ma state attenti a non farvi strumentalizzare.